Il pallone scodellato al centro, allontanato ma non sufficientemente ed arriva la rete, il gollo, il Troina passa in vantaggio al quattordicesimo, si apre la difesa del Marsala. Entra in aria, il pallone al centro e per il direttore di gara si tratta probabilmente di calcio di rigore. Arriva il fischio, il tiro e la rete il 2-0. E arriva la terza marcatura, troppo facile per il Troina adesso che sta dilagando. Crosso al centro e arriva il 4-0. Adesso il risultato si fa veramente pesante. Evangelisti, il tiro a cucchiaio e il pallone che si spegne sul fondo. Adesso. 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 Adesso.